Ma noi vogliamo mantenere il nostro posto di lavoro, abbiamo una famiglia, non ci possono buttare via così. Un altro pezzo della canteristica fanese che se ne vuole andare. Niente lasciava presa a gira l'annuncio della richiesta di cassa integrazione per 40 lavoratori e la decisione poi di cedere il ramo d'azienda. E il tutto nel giro di poco più di un mese. Per questo motivo stamattina 88 lavoratori, tra operai e impiegati, 30 dei quali già in cassa integrazione, hanno incrociato le braccia dando vita ad un presidio davanti ai cancelli dell'Azimut Benetti, nella zona industriale di Bellocchi. La scelta di operare è stata presa dopo aver saputo della decisione dell'azienda di voler chiudere il sito fanese specializzato nella realizzazione di scafi e gusci in vetroresina. I sindacati chiedono di avviare subito un tavolo istituzionale di confronto per evitare una tragedia occupazionale. Si appellano inoltre al comune e alla regione affinché si adoperino per completare il dragaggio dei fanghi e la strada di raccordo con il porto, perché il territorio di Fano e della Val Cesano hanno detto non si può permettere di perdere le aziende della nautica anche per i gravi ritardi infrastrutturali. Però pensando alla Benetti il lavoro ce l'hanno, possono portarlo all'interno e continuare sul sito di Fano visto che Benetti per anni e ancora oggi, speriamo anche per il futuro, rimanga il polo di eccellenza nel territorio per quanto riguarda la resina. Le informazioni sono state confermate all'incontro di ieri dove l'azienda ha esplicitato in pratica in maniera più o meno chiara che le intenzioni di rimanere sul sito di Fano sono remote dicendoci che intendono esternalizzare le lavorazioni cedendole a ditte terze o meglio non portare ulteriore lavoro che consentirebbe la piena occupazione delle maestranze ormai formate da anni. Qui ricordiamoci che non sono barche normali, sono barche di lusso, una gamma di lusso, sono yacht fatti da lavoratori professionali e vogliono disperdere questo patrimonio. Alle sue spalle ci sono tanti lavoratori dunque che rischiano il posto di lavoro. Sì, sono tutti usciti stamattina dopo l'assemblea che abbiamo fatto delle CL7, ci hanno inoltrato proposte inaccettabili siamo per chiedere a loro di ritrattare e di tornare qui prospettando un futuro per queste 88 famiglie un futuro per questa attività, per questo territorio e per questa zona industriale che rischia di essere depauperata e impoverita e si rischia di lasciare tanti lavoratori senza tutela. Di questa azienda che deve ritrattare le sue posizioni, deve portarci una prospettiva per il futuro di queste 88 famiglie deve cambiare la sua posizione, faremo di tutto per arrivare a questo risultato. Pare che l'azienda abbia in programma di costruire due scafi, uno di 31 metri e l'altro di 35 e all'incontro, da come riferiscono le RSU e i sindacati, l'Azimut Benetti ha parlato di circa 10 yacht invenduti a causa della richiesta della cassa integrazione ordinaria e del rallentamento della produzione in minimi termini. Così si è fatto strada fra i lavoratori, il dubbio che poi è diventato quasi certezza della volontà di chiudere il cantiere e mandare a casa 88 persone. Da quanto tempo siete a conoscenza di questa situazione? La situazione si è sviluppata in pochissimo tempo, in un paio di mesi, ci troviamo adesso praticamente con un parco di barche invendute e dopo aver lavorato per due anni è sprombattuto, quindi in pochissimo. Dunque il lavoro c'è stato fino a pochissimo tempo fa? Sì, anzi, non pensavamo che eravamo arrivati a questa situazione, anche perché noi costruendomi le barca a Biaregio, in questo momento c'è nel parco barche pieno, quindi noi non sappiamo il motivo per cui siamo fermi così. Ora attendete una risposta ovviamente. Certo, la Benetti è un leader a livello mondiale e non possiamo, non vogliamo credere che ci abbandoni così e ci mandi per strada. Ci ha tutelati fino ad oggi e confidiamo, siamo sicuri che continuerà a tutelarci e assicurarci il lavoro per i prossimi anni. Perché la possibilità ce l'ha, la possibilità ce l'ha di offrirci il lavoro e noi di mantenere il cantiere aperto, la possibilità ce l'ha, solo che loro non lo vogliono fare. Da quanto tempo hai lavorato in questa azienda? Sono la maggior parte, c'è gente anche 30 anni che lavorano qua, ma noi staremo qua pur di ottenere ciò che dobbiamo ottenere e non ci arrendiamo, ma per nessun motivo. Grazie.